Alto 12 metri e largo 6 del peso di oltre 140 quintali realizzato in legno sarà modulare con pannelli decorativi evocativi e una particolare illuminazione a led. È il nuovo albero di Natale della città di Fano che svetterà in piazza 20 settembre per tutto il periodo natalizio e per i prossimi due anni a venire. Il costo complessivo dell'opera è di 45 mila euro e peserà per due terzi sul budget che il Comune mette a disposizione per le iniziative del Natale e un terzo deriverà dal contributo di privati e sponsorizzazioni. Il Comune anche quest'anno mette sul piatto 21 mila euro per tutte le iniziative legate al Natale, luci, addobbi, mercatini, non solo quindi l'albero. In questo modo, in un periodo non florido, il contributo chiesto ai commercianti sarà solo di 70 euro anziché 120, in modo da coinvolgere più esercenti possibile. Un appello anche a tutti i commercianti di cercare di sostenere queste iniziative, di cercare di rendere più bella la città e più attraenti in queste giornate di festività, la luce della fratellanza, la luce della solidarietà. L'albero del Signore Seri, così si chiama, è stato curato dall'architetto Seri e le decorazioni sono dell'artista Paolo del Signore, già noto alle cronache per essere l'inventore dell'ormai oggetto di culto del carnevale fanese, il prendigetto. È un albero molto grande, circa 12 metri, anche 13, per una grandezza di 6 metri circa. L'albero rappresenta la storia, la bella favola del Natale, con delle illustrazioni dei miei disegni, tipici della mia opera, però che rappresenta la città di Fano vestita a festa, vestita adobbata a Natale. È un albero che comunque durerà per parecchi anni perché è realizzato in un materiale che può stare all'acqua, quindi è molto controllato da questo punto di vista. La rappresentazione dei disegni sono 40 pannelli che vengono inseriti in questa struttura e che appunto con colori vivaci, con queste storie, rappresentano la città di Fano, appunto come dicevo, adobbata a festa. L'albero sarà illuminato completamente con dei led in modo da creare un effetto anche notturno abbastanza piacevole e così per dare questa luce alla città durante le feste natalizie. Il nuovo albero si inserisce nel progetto denominato Il Natale che non ti aspetti, in collaborazione con l'Entroterra, dove l'Ufficio del Turismo e Proloco lavorano all'unisono per portare anche a Fano gruppi turistici nel periodo natalizio. Il costo era sicuramente importante quello proposto ma alla fine innanzitutto l'intervento che arriverà da alcuni sponsor privati che ne pagano più di un terzo e quindi già lì ci hanno sostenuto in modo abbastanza importante ma ancora abbiamo ripartito la spesa in tre anni, la spesa che non è soltanto dell'albero perché l'albero costerebbe molto meno ma la spesa comprende l'albero, l'installazione per il 2016, l'installazione e lo smontaggio per il 2017 quindi diciamo che è un costo definito per tutti i tre anni in cui questo albero verrà montato e smontato e posizionato in piazza 20 settembre. Quindi direi che ci avviciniamo molto ai costi degli alberi degli altri anni.